La CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori Bellunese, ha radunato in assemblea i propri associati presso la Billeria Pedavena per fare il punto della situazione in un momento di snodo particolarmente delicato in vista della prossima stagione. Molti temi caldi sul tavolo a cominciare da un allarme che sta diventando purtroppo costante. Uno su tutti è quello del problema della siccità, cambiamenti climatici, lo vediamo anche in questi territori, un minore innevamento, un tema che ha ricadute poi anche su quello che è tutto il contesto territoriale dalla montagna alla pianura. Ma poi pensiamo anche alle ricadute sul turismo, questi territori sono territori che attraverso la multifunzionalità, attraverso le attività delle produzioni tipiche hanno fatto un punto di forza, un punto di eccellenza e oggi il rischio di non avere più quelle montagne innevate che avevamo nel passato ha anche questo tipo di problema. E quindi temi caldi che devono essere affrontati sono stati affrontati già a livello nazionale, a livello ministeriale, ma a livello ragionale siamo sul pezzo per poter appunto vedere quali siano le strategie da mettere in atto da qui in avanti proprio per mitigare questi condizionamenti. L'associazione, che nel Bellunese conta oltre 300 aderenti, tra cui alcune donne e un numero crescente di giovani, ha ripreso a pieno regime la propria attività dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid e guarda ora nuovi traguardi, soprattutto in termini di sinergie sul territorio. Abbiamo avuto l'anno scorso diverse uscite importanti, giusto per menzionarne qualcuna, Longarone Fiere, Agrimont, convegno condiviso con le altre due associazioni di categoria, Coldiretti e Confagricoltura, abbiamo avuto il Festival delle Foreste, abbiamo avuto un convegno organizzato appunto da noi in provincia, che riguardava i problemi legati alla fauna sebatica, i danni e quant'altro, varie uscite insomma, Gal, Comuni, Provincia, Camere di Commercio, insomma stiamo cercando di riallacciare in modo molto forte, dopo appunto la parentesi Covid e pandemia, quelli che sono i contatti.